Salve a tutti, io sono Martello e oggi si sbatte forte con... Qualcosa di nuovo! Siamo letteralmente chiusi nei nostri comuni e nel mio caso sono confinato in questo paesino da 4000 anime, talmente piccolo che lo studio dove registro è effettivamente a 10 minuti di distanza, ma... si trova in un altro comune. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Quindi si chiude una porta, si apre un portone e come vedete sono armato fino ai denti per iniziare con le lezioni online. Sì, avete capito bene, sono aperte le lezioni online con Martello. Se siete interessati a questa opzione potete contattarmi lasciando tranquillamente un commento qui sotto al video oppure scrivendomi direttamente all'indirizzo mail martellodrummer-gmail.com o anche scrivermi alla pagina Facebook Martello Drummer. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Dettaglio importantissimo, la prima lezione è completamente gratuita. In questo modo potete sperimentare se questo tipo di didattica fa al caso vostro e soprattutto vedere se la vostra connessione è in grado di reggere una lezione online intera. Eccomi nella versione operativa, quindi con cuffie, microfono ad archetto da cui potete sentire la mia brutta voce, la batteria collegata, quindi... Potete sentire anche la batteria, abbiamo anche il mixer da cui possiamo mandare le basi. Tutto funzionante. Cosa vi serve per fare lezione con Martello? Una connessione stabile, un dispositivo come uno smartphone o un computer, l'applicazione Skype e infine il vostro strumento. Avete la batteria acustica? Munitevi di cuffie con microfono, quelle Bluetooth vanno benissimo, e io riuscirò facilmente a sentire ciò che state dicendo e ciò che state suonando. Avete la batteria elettronica? Stesso consiglio di prima, munitevi di cuffie con microfono e di uno speaker da collegare alla batteria elettronica. Per ogni consiglio sull'attrezzatura più idonea, non esitate a scrivermi, vi risponderò con piacere. Detto questo, spero di sentirvi e vedervi virtualmente per affrontare insieme tutti gli argomenti batteristici di cui avete bisogno. Bene, anche per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e mi raccomando iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video di Martello Drummer.